leggere un libro come biotrans energetica vuole dire fare un viaggio intenso ricco che dura nel tempo vuole dire compiere un percorso di trasformazione vuole dire fare anche una scelta una scelta di campo vuole dire muoversi in quel mondo per il quale alla base dell'universo c'è la coscienza anziché la materia vuole dire compiere una rivoluzione copernicana dentro se stessi e guardare il mondo con gli occhi della consapevolezza con gli occhi di quella eroe eroina in viaggio che in grado di compiere il suo percorso di trasformazione di crescita padroneggiando l'esperienza interiore troverai in biotrans energetico una storia intanto la storia di un viaggiatore che ha compiuto il suo percorso di trasformazione la storia di un medico e di uno psicoterapeuta che ha in 40 anni ha costruito una disciplina o si è visto costruirsi addosso una disciplina in oltre 40 50 mila ore di lavoro clinico con le persone trovare la storia di radici antiche come lo sciamanesimo come il cristianesimo stesso come le tradizioni mistiche orientali troverai un'epistemologia vuol dire come faccio a dirti quello che ti dico come fai a comprendere quello che stai comprendendo come fai a stare meglio a dialogare nel mondo e stare meglio e poi troverai un'infinità di pratiche proprio una metodologia che ti accompagna se vuoi in un percorso trasformativo questo vale sia se vuoi compiere un viaggio di benessere nella tua vita sia se vuoi approfondire dal punto di vista professionale delle relazioni d'aiuto questo mondo della psicologia del futuro